Doctro Besca, nuovo regalino, presto saprete cos'è, vi posso dire che è una cosa molto molto piccante però ci siamo, unboxing time, che sarà mai? signore e signori, ce l'abbiamo un po' di problematiche ma c'è, è lui signore, eccolo sapete cosa c'è qua dentro? beh si sta fracassando tutto ragazzi cioè, eccolo, lui è l'amaro del capo ma quello piccante, Red Hot Edition, top e Doctro Besca lo proverà a breve non appena avrà pulito tutto dalla plastica e ora proviamo l'amaro del capo piccante, piccante, vuol dire l'amaro del capo classico piccante per me signori è un onore, l'ho già provato ma averlo è stata tanta roba non è così semplice, rompiamo il sigillo degno alla rottura di una cintura nera ah ragazzi, si sente già il piccante un goccino eh, non di più mamma mia questo da quando l'ho provato è un digestivo eccellente, vedete che rosso rosso con infusione praticamente del piccante ve lo faccio vedere meglio sono stati messi a infondere i peperoncini nella miscela originale quindi tanta tanta roba taste test anzi test d'assaggio ci voleva, ci voleva cin cin poi rilascia il rosso ragazzi che buono cheese pop e poi ti sale il piccante grazie grazie